Buonasera a tutti e benvenuti nella foresta di Sherwood per questo dibattito dal titolo Side by Side, proteggere le persone e non i confini. Ringrazio immediatamente i nostri ospiti che hanno deciso di essere qua con noi. Alla mia destra Pietro Massarotto, avvocato e presidente del Naga, Tommaso Gandini, tutti lo conoscete, un'attivista della campagna over the fortress e Nawal Sofi, un'attivista per i diritti umani e ti presento come una collaboratrice indipendente nei salvataggi. Poi in realtà tu fai molte altre cose ma tanti ti conoscono per questa tua attività molto importante e anche per essere stata una delle poche voci critiche durante il rastrellamenti di Milano visto che in quel momento ti trovavi lì e una delle voci appunto che sono apparse anche mediaticamente che criticavano quell'operazione era la tua. Il dibattito di questa sera proverà un po' a affrontare quelli che sono i temi d'attualità e la rilevanza del dibattito culturale e politico attorno alle migrazioni e ai diritti di cittadinanza. Siamo in una fase nel quale ci troviamo di fronte a delle politiche orientate dal mantra securitario, dal mantra del controllo, i decreti Minniti Orlando ci parlano di questo, di una criminalizzazione costante della figura del migrante, di un approccio securitario alle politiche odierne attorno al tema dei diritti. Ma sono approcci che trovano sponda e che si configurano anche poi a livello europeo, quindi noi ci troviamo di fronte non solamente a politiche nazionali che sono orientate da questo mantra securitario, ma possiamo dire che tutta la legislazione europea e le ultime scelte anche attorno alle politiche europee, anche le ultime decisioni del Consiglio europeo che si è tenuto pochi giorni fa, indicano una serie di proposte che vanno essenzialmente sulla contrazione da una parte del diritto d'asilo, dall'altra della possibilità di arrivare in Europa. Infatti tutto il dibattito spesso è schiacciato attorno a due temi. Il primo è quello di trovare delle modalità per interrompere l'arrivo dei migranti sulle coste italiane, dall'altra il tentativo è quello di restringere il campo di applicazione del diritto d'asilo e di, una volta ottenuto questo, ragionare su come velocizzare, su come riuscire a mettere in pratica i rimpatri dei cosiddetti migranti irregolari. Quindi ci troviamo di fronte a politiche che essenzialmente orientate a esternalizzare le frontiere europee puntano a costruire meccanismi sempre più invasivi, meccanismi proprio di muri visibili e invisibili per bloccare gli arrivi ma soprattutto per bloccare le partenze. Quindi ci troviamo di fronte a politiche che sono essenzialmente orientate a esternalizzare le frontiere europee, a trovare quindi sul modello già sperimentato con l'accordo tra l'Unione Europea e la Turchia degli accordi simili con i paesi africani, con i paesi di origine e di transito e le zone di partenza dei migranti. Dall'altra parte però questa tendenza che oramai è chiara a tutti, cioè non c'è più nessuno che in qualche modo a livello europeo non sta pensando questo come soluzione ai nodi critici, dall'altra parte procedono dei processi di criminalizzazione rispetto a tutti quegli attori che a vario titolo e in vari modi sono impegnati attorno a quello che è un meccanismo di solidarietà e di supporto ai migranti lungo il loro tragitto. Quindi da una parte abbiamo una criminalizzazione di tutte quelle organizzazioni non governative che oggi compiono i salvataggi nel mar Mediterraneo, una criminalizzazione che non è semplicemente di tipo giuridico, in questo momento è una criminalizzazione che si basa proprio sul infangare il tipo di operazioni di ricerca e soccorso che mettono in pratica le organizzazioni non governative. E vicino a questo una costante criminalizzazione di tutti quegli attivisti ma anche delle persone comuni che di fronte a leggi ingiuste cercano di disobbedire e supportano i migranti che transitano e che decidono anche di forzare quelli che sono i dispositivi dell'Europa Fortezza e provano, ad esempio come succede quotidianamente a Ventimiglia, ad attraversare la frontiera. Infatti il confine emerge sempre come un dato costante nella vita dei migranti. Il confine è un confine durante il tragitto che li porta ad arrivare in Italia, il confine poi diventa un confine invisibile, immateriale nel momento in cui vengono accolti e cercano di fare richiesta d'asilo e successivamente diventa anche un confine nel momento in cui magari si ritrovano anche con un permesso di soggiorno, vivono, lavorano in Italia ma si possono trovare da un momento all'altro nuovamente irregolari e quindi il confine riemerge con tutta la sua violenza nella vita dei migranti. In questo primo giro magari di domande vorrei proprio toccare quello che è l'attualità del dibattito politico cioè iniziare a proprio capire qual è il mantra, questo mantra sicuritario del controllo attorno al tema delle immigrazioni. Inizierei proprio da Pietro, visto che il Naga è un'organizzazione, un'associazione che oramai quest'anno compierà 30 anni di operato, è un'organizzazione tra le più conosciute a livello italiano che ha strutturato negli anni dei servizi a Milano che funzionano molto bene servizi di tipo legale, di assistenza sanitaria, di osservatori e monitoraggio rispetto alla filiera dell'accoglienza. Un'associazione che quindi è impegnata, come dire, anima e corpo per salvaguardare i diritti ma soprattutto anche per trovare delle soluzioni politiche, per provare a costruire un dibattito che proponga delle vere soluzioni e che non si limiti semplicemente a dare un supporto ai migranti.